Approvata nella notte l'Assemblea regionale la finanziaria con 39 voti a favore e 22 contrari, un solo astenuto il deputato del nuovo centrodestra Vincenzo Vinciullo e con 22 assenti in aula al momento del voto passa anche il bilancio con 22 contrari e 44 a favore. Dal 2005 ha detto il presidente della regione Crocetta non si approvavano una finanziaria e un bilancio definitivi a gennaio e poi ci sono tante norme importanti come quella che cancella le partecipate dello spreco. Mi accusano di fare enorme manifesto, sono cose buone se poi fanno pure la loro parte nel consenso non ci vedo nulla di male. Sono soddisfatto, ha ribadito questa mattina l'assessore all'economia Luca Bianchi, poco più di un anno fa abbiamo trovato una regione con i conti poco trasparenti e si parlava di default e questa finanziaria ha un'anima. Continuiamo anche quest'anno con il risaramento con 300 milioni di tagli per i precari, manca solo il disegno di legge delle imprese ma lo porteremo avanti e la manovra sarà veramente conclusa quando ci sarà anche quello. Certo è saltato l'annunciato mutuo trentennale da un miliardo per ripianare i crediti con le imprese, 600 milioni solo per il settore sanitario e con i comuni che dovrebbero avere gli altri 400 milioni, un elemento che sarà valutato negativamente dalle amministrazioni comunali. La finanziaria porta intanto il nuovo piano sanitario, gli aiuti alle famiglie e alle coppie di fatto iscritte nei registri comunali e la proroga dei precari degli enti locali ma, dicono le posizioni, è una manovra stiracchiata senza un grande respiro. Adesso l'attenzione è puntata verso un'altra scadenza e questa volta i tempi sono quasi inesistenti. Entro il 14 febbraio dovrebbe infatti vedere la luce la legge che abolisce le nuove province, istituisce liberi consorsi tra comuni e le aree metropolitane e soprattutto dovrebbero arrivare i decreti attuativi per il passaggio di competenze di personale. 29 giorni per fare ciò che governo e parlamento non hanno fatto in un anno e mezzo. Gli attuali commissari sono stati prorogati e scadranno definitivamente il 14 febbraio, poi non ci saranno altre proroghe. C'è già chi si prepara al voto per rieleggere i nuovi presidenti e i nuovi consigli provinciali in primavera.